a meria radio presenta il pianoforte buonasera e benvenuti a il pianoforte questa sera la trascorreremo insieme alle meravigliose composizioni di maurice ravelle il primo brano che ascolteremo sono le tombeau de couperin proseguiremo con la sonatina per pianoforte dopo la sonatina ascolteremo gaspar la nuit per concludere con i balzer nobili e sentimentali al pianoforte robert casadesus grazie a tutti 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 grazie a tutti